Evelyn ebbe un successo grandissimo, a livello di produzione fece parecchi soldi e allora subito, dopo poco tempo, si approntò subito un altro film del genere, La Dama Rossa, però con un po' più di soldi, di quattrini. Dunque l'idea era quella di andare a trovare gli ambienti, non in Italia, e di fatti devo dire che in quella scena lì, io credo, non lo so perché in quel momento poi c'ero e non c'ero, andavo avanti e indietro dai vari set che io avevo, stavo costruendo e arredando, che io ricordo che c'erano dei ratti finti, però poi Miraglia disse a un certo momento che erano troppo finti, galleggiavano, non gli piacevano, insomma qua bisognava trovare un'idea, eccetera, e credo che poi alla fine è riuscito a metterli quelli veri. Credo che anche Barbara Lumbouchet, adesso non mi ricordo perché erano tutte le notizie che mi hanno riportato, evidentemente, ci fu una cosa un po' schifiltosa, talmente, per vedere questi ratti veri, questi topi, eccetera. Grazie a tutti.